Siamo qua a lanciare l'arrivo delle bici di Lime, sono 300 mezzi che si vanno ad aggiungere alla flotta di monopattini che già Lime ha sulla città, ricordo che i due operatori che abbiamo sono Lime e Bird su Rimini e quindi quest'estate, che è un po' un'estate all'insegna dello sharing di tanti mezzi, avremo anche le biciclette elettriche che si vanno ad aggiungere oltre ai monopattini, ai motorini e a breve avvieremo anche un servizio di car sharing elettrico. Quindi è una Rimini che si sta sempre di più attrezzando all'insegna della mobilità sostenibile e condivisa e sperimentando anche nuovi strumenti e nuovi mezzi per godere della nostra spiaggia e delle nostre bellezze.